Amore, hai visto che bel disegno ha fatto Orlando a scuola? Bellissimo! D'altronde il nostro pianeta è davvero stupendo ed è così che dobbiamo lasciare i nostri figli. E possiamo farlo con qualcosa di semplicissimo. È il passaparola! Sì, perché più persone convinciamo a riciclare, più plastica togliamo dall'ambiente, andando verso un mondo a impatto meno uno, dove ognuno ricicla molto più di quello che consuma. Proprio come Ferrarelle, l'unica con uno stabilimento dedicato al riciclo, grazie al quale rimuove dall'ambiente più plastica di quella che utilizza, per produrre bottiglie riciclate e riciclabili all'infinito. Insieme a Ferrarelle possiamo aderire tutti al più grande passaparola a favore dell'ambiente. Per costruire insieme un mondo a impatto meno uno. Ferrarelle, un impegno per la natura. A B A A A A A A